Dando uno sguardo sulla situazione della famiglia oggi dobbiamo dire che se vogliamo gettare l'angora di salvezza della famiglia è importante dare un'occhiata alla famiglia stessa perché soltanto dalla famiglia si può pensare ad una salvezza della famiglia stessa. Può sembrare un gioco di parole ma è così. Noi pensiamo che sono le grandi istituzioni che devono risolvere il problema della società moderna il problema dei giovani oltre a quelle della famiglia. È nella famiglia che nasce e cresce l'uomo vero se a loro volta i genitori sono all'altezza di essere educatori. Alle tante famiglie disorientate dai vari messaggi che spingono al consumismo, all'edonismo, la piccola chiesa fa riflettere sulla semplicità della vita. Tutto il sistema educativo è posto in discussione e varie possono essere le cause. Declino dell'impegno educativo della famiglia, avvento dei mezzi di comunicazione sociale, la scuola non al passo con i tempi, la mancanza dei valori della fede cristiana. Paolo VI nel discorso tenuto a Nazareth il 5 maggio 1964 ci esorta ad entrare nella casa di Maria e Giuseppe, ad osservare e ad ascoltare e a meditare la meravigliosa presenza del figlio di Dio tanto semplice, mite e bella. La famiglia è la prima cellula della chiesa e della società, può avvicinare quella situazione più distante dove forse la chiesa non può arrivare. La casa di Padre Pio, una piccola casetta, ma dove regna l'ordine, dove regna il sacrificio, il dolore e la gioia di essere cristiani. Anche gesti molto semplici da vivere in quella famiglia, vissute da bambino Padre Pio, ma gesti semplici ma ricchi di amore di Dio.